Ci sono tante cose che le agenzie o gli operatori del settore non ti dicono sul fatto di acquistare casa. Oggi ne vediamo tre che sono sicuro ti stupiranno. Mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente immobiliare, ti invito ad iscriverti al mio canale perché tutte le settimane pubblico nuovi contenuti che possono esserti utili e se hai bisogno del mio aiuto puoi trovare tutti i miei recapiti in descrizione a questo video. La prima cosa che non ti dicono sul fatto di acquistare casa è che lo sconto medio rispetto al prezzo richiesto è del 9,7%. Questo vuol dire che sui prezzi che vedi sui portali immobiliari puoi andare a togliere anche un 10% e non lo dico io ma lo dice un sondaggio della Banca d'Italia. È sempre così? No, riuscite a negoziare meglio del 10%? Non è una regola ma si tratta di un sondaggio, di una statistica che puoi tenere in considerazione quando devi andare a fare un'offerta di acquisto. La seconda cosa che non ti dicono è che il notaio non verifica la conformità dell'immobile. Spesso sento agenti immobiliari che dicono sì ma tanto lo controlla il notaio oppure sì ma se hanno fatto l'atto due anni fa vuol dire che è tutto a posto. Queste cose un po' mi sorprendono perché non capisco se l'agente immobiliare lo sta dicendo per tirare l'acqua al proprio mulino e per far fare un'offerta al cliente in qualsiasi caso anche se ci sono dei problemi sull'immobile oppure lo sta dicendo perché è veramente ignorante e crede che il notaio faccia le verifiche di conformità sull'immobile. Il notaio non verifica la conformità così ci togliamo ogni dubbio ma si basa sulle dichiarazioni del venditore e dell'acquirente o nella migliore delle ipotesi sulla relazione fatta da un tecnico che a volte è pagato dall'acquirente e a volte è pagato dal venditore dipende un po' dove ci troviamo per esempio dove mi trovo io a Lucca il notaio richiede una relazione di conformità redatta dal tecnico della parte acquirente ma se ci spostiamo già di pochi chilometri a Firenze il notaio richiede la stessa relazione ma fatta dal tecnico del venditore. Se invece andiamo in Lombardia il notaio non chiede niente di tutto questo e sull'atto scrive che il venditore e l'acquirente dichiarano che l'immobile è conforme. Punto. Quindi come ovviare a questo rischio cioè quello di acquistare un immobile che non è conforme catastalmente o urbanisticamente? Pagare qualche centinaio d'euro a un tecnico, un geometra, un architetto o un ingegnere per redigere una relazione di conformità. La terza cosa che non ti dicono sull'acquisto di una casa è che il catasto non ha una valenza legale. Il catasto non conta nulla. Infatti anche se sul catasto c'è scritto che io sono il proprietario di un immobile questa informazione non è probatoria. Probatoria è un termine legale che si riferisce al fatto che non può essere provante del mio diritto di proprietà ma per verificare che effettivamente io sia il proprietario dobbiamo andare a vedere l'atto di provenienza quindi l'atto con cui io sono diventato proprietario di quell'immobile. Può essere un rogito, può essere una successione, può essere un uso capione, un decreto di trasferimento da parte del tribunale ma non basarti sul catasto. Stessa cosa vale per la conformità. Se la planimetria catastale è conforme a quello che vedi fisicamente nell'immobile non ti fermare lì perché è necessario anche avere la conformità dal punto di vista urbanistico ed edilizio quindi relativa ai documenti depositati in comune. Acquistare case è un processo lungo articolato e questa mancanza di informazioni spesso rende il processo anche un po' doloroso. Questo succede perché c'è una simmetria informativa tra l'agente immobiliare o il venditore dell'immobile e chi lo sta acquistando cioè non hanno le stesse informazioni. Il venditore e l'agente immobiliare hanno più informazioni rispetto all'oggetto della compravendita rispetto a chi sta comprando e possono decidere se fornire queste informazioni oppure no. E questo ovviamente può impattare sul prezzo. Tieni in considerazione che l'agente immobiliare in teoria sarebbe obbligato a darti tutte le informazioni di cui hai conoscenza sul bene e soprattutto i vizi e i problemi a cui potresti andare incontro. Ma spesso questa regola viene omessa dagli agenti immobiliari. Spero che questo video ti sia utile nel tuo processo di acquisto di una casa o di un immobile e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!